Radio Flash e Livorno Magazine.it presentano Innamorarsi di Livorno Il cacciucco, altro che zuppa di pesce, di Maurizio Silvestri Il termine cacciucco, come ci spiega Aldo Santini nel suo libro Livorno, pubblicato da Belforte nel 1998, pare derivi dal turco kukuk, che significa piccolo, cioè zuppa di piccoli pezzi di pesce, o dallo spagnolo cacciucco, una specie di dentice che nel linguaggio comune viene usato come termine generico di pesce. Per i Livornesi era un insieme di pesci avanzati dalla vendita, l'unico modo per saziarsi dopo tanto lavoro. Gastone Razzaguta ci narra in alcuni suoi versi una storia diversa, quella di Labrone, fondatore della città e dei suoi svogliati aiutanti. Aiutanti piuttosto bizzarri e con poca voglia di lavorare, visto che Labrone si è dovuto dannare l'anima per costringerli ad edificare Livorno. Secondo la leggenda, va dunque a loro il merito di aver creato il cacciucco. Scrive Razzaguta Ed il Signore il primo giorno gli mandò un omino detto cicala, il secondo un omicciolo detto gallinella, il terzo un omiciattolo detto gattuccio, il quarto un omuccio detto polpo, il quinto un omaccino detto grongo, il sesto un omaccione detto scorfano. E tutti confessarono a indifferenti favelle che erano rapati perché scappati dalla galera, ma il Signore li aveva mandati. Il settimo giorno Labrone pregò il Signore di non mandargli più gli aiuti e che facesse meglio guardare le galere di tutto il mondo. Ma poi i sei, alla morte di Labrone avvenuta a 131 anni, si misero al lavoro creando Livorno, un gran tempio in onore di Ercole e infine un bel piatto di pesce che fosse simbolo della città. E dissero, come dall'insieme di questi rozzi pesci è sortito un buon piatto, così da noi verrà la bella cosa voluta dal cielo, perché sulla terra del nostro villaggio crescerà una gran pianta, sia questo piatto il nostro piatto della ricordanza, e lo mangino i figli e i figli dei nostri figli, questo piatto si chiamerà cacciucco.